Siamo quasi pronti per la terza gara della giornata, qui a Rezzato, organizzava il verde di Bociccino. Siamo quasi pronti per la terza gara qui della giornata, qui a Rezzato. La prima gara è stata vinta da Giordano, Team Casari, la seconda gara Team Loda Millennium, ha vinto Nicola Loda. Ecco partita la terza gara, terza e ultima gara della giornata. Mi sembra che facciano 11 tiri anche loro. Ecco la scorsa tecnica. Mi sembra che ci siano già due atleti in fuga. Mi sembra Stefano Fracassi. Sono staccati dal gruppo, hanno una decina di secondi sul gruppo. E' solo lupo. Guardiamo se c'è in alto qualche fuga. Ecco la scorsa tecnica, secondo passaggio degli atleti della terza gara della giornata. Mi sembra che ci sia un atleta avvantaggiato una decina di metri, ma il gruppo è lì. Il gruppo è lì. Ecco la macchina per corsa. Tutta la scorta tecnica. Aspettiamo gli atleti, terzo passaggio. Ecco qui, un gruppo di atleti. Ma il gruppo è lì. Terzo passaggio degli atleti, la terza gara della giornata. Gruppo quasi compatto. Mi sembra Andrea Rigoni. Andrea Rigoni che tira il gruppo dei fuggitivi. Eccoli qui. Eh ma il gruppo è lì. Il gruppo è lì, sfilato in fila indiana. Gruppo che si è spaccato in tanti tronconi. Gruppo che si è spaccato in tanti tronconi. Mi hanno detto che mancano sette giri a termine. Ma Andrea o Andrea? Noi.